Guarda quel tavolo all'angolo, ora lo vedi pieno di gnocchi, mi sa che è un addio al nubilato, sono un po' ubriaco, non ci cagano. Attenzione, cambio di programma, ci cagano. Sono la collega. Le amiche che dicono le amiche. Ciao, eccomi. No, ma non abbiamo portato niente, mi dispiace, abbiamo deciso all'ultimo. Beh, non mi sembra. Ciao, io sono Luciana. Lorenzo. Lo so, lo so. Beh, sarebbero molto fame, hai svaliggiato un pescheraccio intero. Sì, a me che sei arrivato. Lorenzo? Sì. Ma dove l'hai chiampato? Io c'ero. Ho visto tutto, in un locale. Amore a prima vista. Alcolico, però. Erano anni che Claudia non si filava nessuno. Agli ordini. Che belli che siete, fate venire voglia di non morarsi. Mio marito è un bravo uomo, però si è un po' spento. Pensa che il mio non si è mai acceso. Bambini, è pronta, è finanza! Come sono? E non li ho ancora provati? No, come sono i miei amici? Ah, no, sono simpatici, carini, veramente. Un po' di vino? Eccolo, eccolo là. Ma quanto ne vuoi? Cioè, Giovanni che ci ha riempito la cantina. L'azienda vinicola. Per questo riesci a mantenere tre mogli. Solo perché vino è buono, se no... Dai, su, brindiamo. E che cosa festeggiamo? Eh, voi due. Quando mettete su famiglia? Ma che famiglia? Vabbè, lui non ha neanche la macchina. Va ancora in giro con la moto. Tu, Lorenzo, che dici? Che non vorrei ridurmi come loro? Scherzo, ragazzi! Il nostro corso gratuito è www.mesmerism.info